Che ha fatto nella vita sua? Lui che ha fatto? Quali sono i progetti di lavoro? Stai nella comunità, e tu che ha fatto che minaccia le persone? Ma questo corredito, questo con la focola? Che ti ce la dice? Così c'è un pizzicato? Ma perché? E' un grande che ne aveva. Ma sai che per 5 volte si è messo con 3 fratelli di cucina. Chi l'ho? Io. Io. Pure io. Wow! Puglioni. Ma non è? Ma cosa l'ho attacca a furto? Ma dove sono arrivati a furto? Che mamma di più spazi? Che fai tu sta in mezzo? Noi, stai in mezzo. Che fai tu? Che fai tu? Che fai tu? Ma si va in mezzo, vengza. E' il puto Miettivo in gaffa il Mario non c'è non c'è il luogo come è bello? eccoli 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 non vuoi mettere scopo eccoli 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 eccoli